In tutte le cose, nei sport da combattimento, la cosa più importante è la distanza. Quando uno non combatte da tanto tempo, sai che dicono, mi serve uno sparring perché io devo ritrovare la mia distanza. Perché se sto lontano non lo prendo, se sto vicino sto troppo stretto. Io non voglio condividere il vostro combattimento, ma voglio dirvi una cosa importante. La maggior parte della gente pensa che per far male uno deve essere veloce ad andare in avanti. Sentite questo piccolo dettaglio, chi è del braccio? Vi faccio vedere qua questa è la meccanica del corpo umano. Quindi uno pensa che per far male deve essere veloce qua. No, per far più male è il braccio opposto, il contrappeso. Più va veloce questo dietro e più farà male questo. Fam, guarda tu è arrivata la spalla. Dinamica, io ho colpito forte, fortissimo l'ho preso. Voglio far male col sinistro, più torna veloce questo dietro, guarda tu è arrivato il braccio.